pronti? ma sei fuori cazzo anche quel tronco li ha messo lì in mezzo porca vacca cazzo lì cazzo lì cazzo lì cazzo lì cazzo lì cazzo lì ci credo piacere Scrivete Grazie a tutti. Come fa a passare qui? Eh no, dove andò fuori qua. Di là, guarda cosa c'è giù. Cioè, dobbiamo venire qua un'altra mattina di qua. Sì, da sui davanti. 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 Come non farlo? Fallo, fallo. Allora... Allora... L'unica cosa che dopo da qua... Allora... 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 Allora...